Continuano i lavori di riqualificazione della zona Pincio di Fano. La ristrutturazione dell'area è ormai in progettazione da diverse settimane per creare un nuovo look a una delle zone più suggestive della città. I lavori ormai sono entrati nel pieno della loro operatività per la riqualificazione del verde pubblico che interessano i giardini, l'impianto di pavimentazione ed illuminazione che per l'occasione verrà completamente rinnovato. In occasione dei lavori anche la viabilità è stata temporaneamente modificata da come ci spiega l'assessore Fanesi. Ci sono dei disagi sulla viabilità soprattutto pedonale ciclabile. Abbiamo in questa fase ridotto la recinzione lungo Viale Gramsci. Proprio ieri hanno ridotto la recinzione lungo Viale Gramsci per permettere il passaggio più ogevole anche dei veicoli. Da lunedì inizieremo a spostare anche qualche attraversamento pedonale perché i lavori di liberaggio, di lavori che consentono anche nel togliere i selci vecchi per permettere appunto alla sovrintendenza archeologica di capire quello che c'era sotto e di studiare eventualmente se dovesse ritenerne necessario, interesseranno proprio il largo di Porta Maggiore. Quindi tutta la zona di Porta Maggiore fino al ristorante che in questo momento per fortuna è chiuso e comunque sarebbe stato chiuso indipendentemente dai lavori e ovviamente sarà liberata e quindi preclusa al traffico pedonale. È ovvio che sarà responsabilità della ditta e del Comune di Fano finire tutti i lavori secondo i termini contrattuali e comunque prima del Carnevale che ovviamente essendo la manifestazione più importante della città di Fano non sarà toccata nel percorso dei carri da nessun tipo di cantiere anche perché altrimenti sarebbe un problema. Durante il restyling è emersa una vecchia pavimentazione di Porta Maggiore risalente al periodo medievale rinvenuta ad appena 30 centimetri di profondità. Si trattano di strutture antiche strettamente connesse al bastione del Nuti costruite in epoca malatestiana per proteggere la città dagli attacchi nemici. Gran parte della porta è stata abbattuta a causa dell'ampliamento della città verso sud-est successivamente rinforzata dal Nuti con nuove scarpate di terra. Attualmente il ritrovamento della struttura apre nuovi scenari di studio per archeologi che potranno approfondire le costruzioni presenti nella zona durante le epoche passate.